Il nuovo anno si apre all'insegna delle tasse per i cittadini di Campobasso. Si comincia il 24 gennaio con la scadenza del pagamento del Limu sulla prima casa. Campobasso è tra quei comuni che nel corso del 2013 hanno aumentato l'aliquota portandola dal 4 al 5 per mille per far fronte ai debiti fuori bilancio. Il decreto del governo emanato a dicembre prevede il pagamento del 40% sull'1 per mille, ossia sulla differenza tra il 5 e il 4 per mille. Contro il decreto Lancia aveva annunciato battaglia giudicandolo iniquo, una battaglia evidentemente persa se è vero come è vero che l'imposto il cui pagamento era previsto inizialmente per il 16 gennaio è stato spostato al 24, l'unica concessione del governo. Dal comune l'assessore al bilancio Toma fa sapere che la somma che i contribuenti dovranno sbossare sarà minima, pochi euro che però andranno ad aggiungersi all'altra tassa in arrivo, la Tares, la tassa che introduce aumenti consistenti e che ingloba il servizio di raccolta dei rifiuti, la pubblica illuminazione e la manutenzione delle strade. La scadenza in questo caso è fissata al 31 gennaio. Le famiglie in media pagheranno il 30% in più, mentre per alcune categorie commerciali i rincari sfioreranno il 200%. Si tratta dei parrucchieri, pezzerie al taglio, pescherie, fiorai, ristoranti. Per questa attività si tratta di un vero e proprio salasso. L'assessore Toma precisa che il comune è stato costretto suo malgrado a decidere l'aumento perché è necessario per far fronte 7 milioni di euro a carico della collettività. Il comune è riuscito a recuperare circa 600 mila euro, ma il resto sarà a carico dei contribuenti di Campobasso, ai quali non rimane altro che pagare.